Ad onorem sante et individue trinitatis, ad exaltationem fidei cattolice, et vite cristiane incrementum, autoritate domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, matura deliberazione per abita e divina ope sepius implorata, ac de primorum fratrum nostorum concilio, Beatas, Ioannam Emilia de Villeneuve, Mariam Cristinan Abimaculata Concepzione, Mariam Alfonsinan Danil Gattas, et Mariam a Iesu Crucifixo Bavodri, Santas esse decernimus e definimus, ac sanctorum catalogu adscrivimus, statuentis eas in universa eclesia, inter santo spia devozioni recoli de vere, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.